Entriamo nella seconda metà degli anni 90 No, entriamo nella terra di mezzo Della seconda metà degli anni 90 Perché uno dice Dopo Mega Drive, dopo Super Nintendo Prime cose portatili Game Boy Simili Atrofizzati C'è la Playstation Arriva la PS1 Roberto scusami Ricordiamo che per gli ascoltatori più distratti Adesso siamo nel 2015 Trovassero anche Tipo in una capsula del tempo Questo file In giro per la rete E invece no Non andate a cercare chi è Jerry No, vabbè Attenzione però Perché prima che Venisse sulla Sony Playstation Qualcun altro ci ha provato E quindi Prima di passare Ad altro In tempi futuri Vediamo ancora Qualche spot E qualche modo Per fare pubblicità A quello che doveva essere Il futuro dei videogiochi E che non lo è stato evidentemente Spazzato via da Sony Con Un calcio in bocca E sto parlando Del Nintendo 64 Da una parte E dall'altra Del Sega Saturn Che ha avuto longevità Credo Tre mesi Ed una settimana Però Si parla di Sega È una venuta E vabbè Qualcosina Finiamo male Finiamo proprio male Malissimo Sento le sirene Via Cioè Già tutti In prescrizione Saranno molti Bip Mettiamola così Il Sega Saturn Non può esimersi Da tutte le altre Boiate che abbiamo Visto prima Ma questo dimostra Questa pubblicità Che sto per mandare Dimostra assolutamente Come noi Di Criticast Abbiamo dalla nostra Una grandissima Immaginazione E siamo Esseri mitologici Perché Perché A inizio puntata Abbiamo Inventato Questa pubblicità Del Sega Saturn Cioè Questa cosa Andate a risentirvi L'inizio è stata detta Ebbene Loro l'hanno fatta Vediamo E vabbè Quando ti finiscono le idee Sega Saturn E Donna Biotta Che Che Si copre Con le schermate Una cosa tipo American Beauty Su Il velluto C'è Una donna Assai poco Non vestita Con Varie schermate Di giochi Di Sega Saturn A censurarne Le zone Più X E poi La scritta C'è anche una bella donna Nuda Su questa pagina Nel caso Non ve ne foste accorti Perché quando c'è Il Triplo Processore Potenza 32 bit Del Sega Saturn Non importa Nient'altro Però io voglio Fare un discorso Quasi serio Cioè nel senso Dietro le scelte Di marketing In teoria Ci deve essere Un Un senso Cioè un principio Se tu Stai promuovendo Un prodotto Per bambini Perché Sostanzialmente Il target Dell'epoca Era abbastanza Basso Perché Usi Queste cose Anche perché Poi Uno fa Anche un calco Nel dire Facciamo una pubblicità Un po' sopra le righe Così la gente Se la ricorda E si ricorda A vita Il prodotto È una strategia Ma io la prima volta Che vedo questa pubblicità Penso A me una pubblicità Del Sega Saturn Ma credo Che forse Si erano Ah E beh Che bella idea No Forse 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 Sbagliamo noi Cioè nel senso Forse sbagliamo noi A pensare che Il loro target Fossero i bambini Forse tentavano Di venderlo Cioè perché anche Il discorso di Giovanotti No di prima Quindi di adolescenti Eh esatto Cioè Perché il bambino Mi vede Quella pubblicità Lì No E non Cioè Non si accorge Del culo Della tipa O almeno Credo Non lo so Magari Dipende dal bambino Magari Sì ma Oh boh Magari ti arriva A livello inconscio Adesso è tipo Il bambino di 7 anni Attuale Prende questa foto E poi la modifica Con photoshop Per raggiungere Le parti che non si vedono Vabbè ma come dicevano Su Come dicevano su Welcome to Zombieland 12 is the new 20 Quindi vabbè Mamma mia Però Cioè Boh Non lo so Probabilmente Funziona Perché Fa discutere Ne stiamo discutendo Quindi probabilmente Funziona Però Probabilmente Era più puntata Per i genitori Che per i figli Nel senso che Tanto il gioco Comprandolo In genitore Il babbo Aspetta 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 Ce l'ho Ce l'ho Sul giornale Il padre G ha le pagine Si firma su questa Mentre si fappa Rimane Con molto tempo Su quella pagina Il ragazzetto Dice vabbè Fammi vedere un po' Anche le altre cose Strategie Poi con tutti i satus Che la gente Si è comprata E si è uscita Ben Come no Soprattutto Se erano annunciate Da pubblicità Sulle tv Tipo queste Con questo bel faccion Ha vinto tutto Cioè Questa pubblicità Attenzione 95 Siamo ormai Primo video Avevo letto Porno video Oramai Non capiamo più niente Ma siamo persi Stavolta Ma è la fine Coppetamente Ho paura Siamo cinque anni Il gioco dal futuro Quello Con la videocassetta Atmosphere Atmosphere E invece no Diventa imbecille Ma che cazzo In quel mona E poi capisci Perché l'umanità È andata a buttare No Poi capisci Perché non ha venduto Un cazzo Si è casato Secondo me è tipo Il fratello Più piccolo Ricora con gli occhiali Dell'altra pubblicità Dell'intrattenimento Per loro E Jimmy Rockwide Giovane Vabbè ma Mi fa morire Quel faccione Il faccione è degno Di dai katana Si Vero Il faccione che ti dice SEDA E perché c'è C'è un coso Un metallaro C'era un metallaro Che teneva la console Con amore E poi tornando ai discorsi Sul target No era Credo fosse il futuro Dell'umanità quello Io sono sconvolto Il nostro futuro è Raz Notte di terrore Io non lo so Cioè nel senso Tutte ste console Appunto Che sono uscite All'epoca Niente Non sono riuscite A fare nulla Contro lo strapotere Dell'impero Sony Che proprio Boh Cioè quando è uscita La playstation Basta Ha distrutto Ma non subito Io non so Cioè di tutte le persone Che conoscevo io Cioè ne conoscevo una Con il Nintendo 64 Ok No no Non c'è non dico questo Perché quando la gente Poi si decidiva a fare L'upgrade Pigliavano quella La pure Estation Per esempio Ma Mi ricordo al lancio Cioè i pochi negozi Di giochi Sopravvissuti Sperano che poi Dopo di quello Si scada a fasciaro No Cioè vedevi Sta playstation Qui si Quanto costa 870.000 lire Ok Poi E la gente Era piuttosto Perplessa Poi quando Ecco la concorrenza Iniziò a fare Le pippe Sostanzialmente Ci fu La migrazione Di massa Almeno da quello Che vedevo Dai negozi qua Insomma Poi vabbè Le ere successive Insomma Sia Sony Che poi come portatile Nintendo DS Avevano Due ragioni Molto Se tu vai a vedere No Tipo Se ti guardi I dati Tipo adesso Nelle epoche Dopo Vabbè che c'è stata La concorrenza Appunto Tipo La 360 E la playstation 3 Ok Hanno venduto circa Lo stesso numero Di unità Ok Circa Anche se A dominare È stata la Wii Che vabbè Costava anche meno Costa anche meno Eccetera Ma se tu vuoi vederti Tipo Quante console Cioè Quante playstation 1 Sono state vendute E quante Nintendo 64 Sono state vendute Tipo Le Nintendo 64 32 milioni Ok La playstation Penso uno zero in più La playstation 104 E beh E in un'epoca E in un'epoca In cui Cioè appunto I Videogiochi Non erano ancora Quello che sono oggi Ovviamente No ma Ti dicevo Playstation Non è un fatto Di quanto Perché lì Era palese Che Anche perché poi Finalmente Comunque Supporto nuovo Poi C'era di bello Che c'erano Qui inalate di giochi D'accordo Fu un sacco di stronzate Però La qualità comunque Era buona Quanti Quanti Tantissimi Però mi ricordo All'inizio C'era una strana Perplessità Cioè non ci fu La botta Proprio iniziale Poi man mano Che qualcuno Iniziava a fare Il coraggio E se la comprava Un passaparola Velocissimo E da lì Stai stationati Anche perché poi Cosa che Già Mi pare Già ne parlammo Almeno Insomma Nei negozi Che potevo visionare All'epoca Tipo Nintendo 64 Che giochi vedevi Ma io non mi ricordo I classici Bellissimi Ma io non mi ricordo Di averla nemmeno Mai vista in vendita No No Beh Quello no Però Per dire Per esempio Ci ho messo anni Per vederne una da vicino Per farti capire Insomma Che fai Già dicevo Ma com'è che il joystick È più grande della console Per dire Quello è un problema Che ho avuto anche La prima Xbox Io mi ricordo La prima Xbox Il controller Della prima Xbox Era Oh Cioè Era abnorme Che io mi ricordo Vabbè Io ho sempre avuto Le mani grandi E quindi Riuscivo ad usarlo Ma mi ricordo I miei amici Venivano a casa mia Per giocare Con l'Xbox E cose Cioè Non riuscivano ad usarlo Non riuscivano ad arrivare A tutti i comandi Ho dovuto comprare Ho dovuto comprare Quello piccolino Per gli ospiti Sì sì Per gli ospiti Davvero Ma vabbè Perché io anche da piccolo Avevo le mani grandi E quindi ce lo facevo Ma gli altri no Quindi Anche quello Dici giusto Fai una console Per bambini Diciamo un target Sui bambini Fai un controller Così abnorme Eh sì Non ho senso Comunque Max È un galantuomo Perché di solito La gente Quando invita Gli ospiti Gli dai il joypad O il joystick Finito nel gabinetto Che serve No no Io Io sempre Io sempre Tipo anche a volte Quando Capita Che si giochi E cose Uso io Il controller Scrauso Perché appunto Quello marcio Perché appunto So So i problemi E poi Eviti le rosicate E tipo Eh ma la Non va Eh no Non è vero Io il controller Marcio Sì 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 E beh Ma A proposito Di Nintendo 64 Per bambini Abbiamo visto Diversi tipi Di personaggi Che hanno fatto Pubblicità Dalle donne Più o meno Dicinte A Jerry Cala A Giovannotti Quindi personaggi Famosi Del mondo Dello spettacolo Per Nintendo 64 Invece La Nintendo Ha deciso Di darsi A un nuovo Tipo Di Product placement Non lo so Eh Chiamando La cosa più Collegabile Alla console E cioè Iviados E beh Io quando penso A una console Ce ne so Iviados Ho paurissima A premere Su quelli La bicicletta Caduta Creepy Nintendo 64 Si parte Amerigana La felicità Della nostra famiglia Una pubblicità Di Twin Peaks E senso Della gioia Ok Non ho capito Oddio Abbiamo capito Si è tolto La dentita Per fare cosa Col trance Di là E anche qui Siamo chiudere Cioè Reassumo Per il pubblico A casa Famiglia americana La voce Che c'è tipo Il valore Della famiglia E tutto E la cosa più bella Che c'è E poi in realtà Il bambino è scioccato Perché ha visto Il padre vestito Da donna Che gli chiede Quanto vuole Perché esso Non parli E quindi Poi lo strillo 64 Costa solo Tott Ed è Potentissimo E se ci dai Anche un'altra roba Porti a casa Un altro E quindi Fanno vedere Il nonno E anche il nonno Si veste Da travion E allora Vedi Forse è questo Perché Voi avete mai visto Una pubblicità Del nintendo 64 Per tv Si No Esatto Però della playstation Si Tantissimo Eccome no Non sottovalutare La potenza Di playstation Cioè forse è stata quella La chiave del successo Della sony Il marketing Nel senso Sano riusciti a fare Degli spot Che non erano devastanti Potrebbe essere Appare Quello di lynch Diciamo che ecco In generale Questo è un discorso Che anche noi Tocchiamo spesso Per vincere Alle volte Non devi essere bravo Ti basta Non fare schifo Oh Ho la pubblicità giusta Al proposito Ecco Perché qual è Il miglior messaggio Da dare Di un gioco O di una console In questo caso Se non Comprala Perché fa vomitare Sto parlando Di una console Che effettivamente Ha fatto vomitare Perché avrà fatto Tipo Un parco Di 20 25 giochi Poi magari mi sbaglierò E i fan Mi ricorreranno Ma dato che Questa console Fan Non ne ha Sostanzialmente Sono a posto Che cosa Sto parlando Della Concorrenza Di playstation Nintendo 64 Sega Saturn Sega Dreamcast Dell'Atari Sapevo nemmeno Avesse fatto Una console Ci ha provato Si chiamava L'Atari Jaguar Ma perché Uno può dire Questa roba Che Nintendo Se la sono giocata Male sotto Certi profili Però bene o male Sul status Non riesco a dire Qualche gioco bello C'era Come no Nintendo 64 Pure Come dire A ogni ciclo Di mercato C'è chi se la gioca Meglio Chi se la gioca Peggio Quanto Però Atari Fece una cosa Improponibile Iniziale già Dal design Della console Per chi non lo sapesse Che cazzo è quel pad Eh aspetta Aspetta Ma ce la vediamo Con un certo add-on L'Atari Jaguar Sembrava Un cesso Ma veramente La forma Della tazza Ma solo il colore Era diverso Però pure C'è chi si fa I bagni Così di design Che lo fa grigio E non lo fa bianco Ok È vero Però c'è subito Una cosa allucinante Poi il pad Con i numeri Cioè ma Già ai tempi De cosa Dell'Atari 5200 Il pianeta La popolazione mondiale Decretò Che era una stronzata Sì Sì Certamente Perché non si farlo E insomma Credo ci volessero Due persone Per impugnare Uno di quei pad Anche lì La console Era non so 60 metri quadrati Era un mini appartamento Il pad Era più grande Ma sul pad C'è tutta la tastiera A poche parole Perché Si Si tratta La quantità Di tasti E contiamo anche Che il fallimento È stato totale Perché di questa console Ne esistono tipo 15 esistenti Su tutto il pianeta Che valgono milioni Ora Penso di sì Perché veramente Anche chi li compra Magari da ebay Anche i recensori Di retro gaming Per vedere come funziona Se è una cosa che va O non va Ne trovano uno su quattro E leggo che Il gioco più ventuto È stato Alien vs Predator Era l'unico Che non fosse Palesemente Bruto Quello che dicono Esatto Appunto Che forse È stato il miglior Gioco Della saga Perché se no C'è questo gioco Bellissimo Si chiama Cybermorphs Dove guidi Tipo Starfox Molto In breve Quindi già partiamo Da dei presupposti Sbagliatissimi Con la differenza Che ha le voci Più irritanti Quindi tutte le volte Che tu per caso Sfiori Un muro Una montagna Un palucco Qualsiasi L'astronave Si danneggia E compare una faccia verde Tipo Polibius Che ti dice Where did you learn To fly Where did you learn To fly È la stessa voce Tutte le volte Che sfiori Un oggetto qualsiasi E come ci fai Una pubblicità Fai una pubblicità Veritiera Tipo questa Quindi applauso Però o meno Premio verità Che per la pubblicità Non è da poco Di Cybermorphs Un premio fair play Un uomo figo Si ondeggia Si ondeggia Ancora di più Si ondeggia Ancora di più Hai proprio sbocchi Ottio Ma sai a me Sai a me cosa Ricorda Il design Di sto Jaguaro No Quegli Gli aspirapolvere E lecci Quelli automatici Adesso Che vanno in giro Ti aspirano Per casa Ma Posso Se aggiungo Il design È uguale Quando la tali Si scatafasciò Dove aver prodotto Questo disastro Che ebbe anche L'add-on Lettore cd Che dava il design Gabinetto Il brevetto Fu in parte Semi acquisito Da una ditta Che faceva Attrezzature Per studi medici E con quel design Ci fecero Non so Come era Il motore Del coso Per pulire I denti E da lì L'hanno usato Spazzolina È una specie Di base Per spazzolini Elettrici Trapani Insomma Cose così E poi Ci hanno fatto Gli aspirapolveri Postura Cessia Elettrico In solo di tutto Quindi capirete Che bello Il rumba Il rumba L'aspirapolveri Elettrico Automatico Però Dato che siamo Vicini ormai A questo primo Troncone Lancio ancora Qualche pubblicità Di Console Segare Dell'epoca che fu Una l'ho scordata Prima Ed è questa Anche questa è Abbastanza veritiera Finalmente Di un gioco Per il Siga CD Robi Scusami se ti interrumpo Ma ci siamo Dimenticati In termini di slogan Di quando L'Atari Diceva Atari Magari Ah è vero La classe Anche lì Atari Magari Perché A livello di Nintendo Stupendo Insomma Che gioia Molto bene Questa pubblicità Fa capire Che Negli studi Di marketing Di queste case Viaggiava la cocaina Perché un gioco Quello sembrava Panic Ma non è E dava allegria E dice Sei impanicato Got panic E si vede uno Che fa una Spruzzata bianca Dal naso Colossale E il gioco Panic Evidentemente Giapponese Evidentemente Perché Come vedete La bellezza Di questa immagine Non ha Non ha Rivali Ragazzi È Semplicemente Stupido È Da incubo Ma scendendo Ancora più Nell'incubo Ecco Adesso Tutte vere Questa è la cosa Più bella Uno diceva Un foto Il fotomontaggio Spirale di terrore Allora Prendiamo Un gioco di tennis Come lo pubblicizziamo E la sega Abbiamo già visto In Germania Cosa hanno fatto Cioè Leggerai un file audio Con la tipa Fa A ogni cosa No Dicono Probabilmente Siccome non ha venduto Tanto questo gioco È perché La gente guardava Le grazie Della tipa E non il gioco Allora Facciamo di nuovo Una pubblicità Di un gioco di tennis Per il Dreamcast Però ci mettiamo In uno spogliatoio Maschile Ok Io questa Non la voglio vedere Io non la voglio vedere E abbiamo L'idea geniale Di posizionare La scritta Dello strillo Della pubblicità Che paia Una scureggia Che esca Dalle ciapas No vabbè Dell'uomo qualsiasi Che non si è fatto vedere In volto Fortunatamente Perché Sennò era rovinato Nella vita È un po' Come ci fa la pubblicità Dei problemi di erezione Sì Dov'è questa? Non la trovo Virtua tennis E poi qual è il senso Di tutto ciò? Il tennis Senza quel momento Imbrazzante Di quando vai Nello spogliatoio Ma il tizio Che si pisce le orecchie Con il maggiordomo Gli è sconvolto Non ci fa un maggiordomo Perché c'è un maggiordomo In uno spogliatoio Ma giordomo Che fa la faccia Come per dire Eh eh Ma non si fa Probabilmente sta guardando Quello che fa la foto Poi c'è un piede volante Una panza enorme Ma che schifezza Madonna Ma come Ma come gli è venuta in mente Questa? E perché sono tutti Degli esseri umani Strani A parte quello vestito? Cioè Quelli più mostruosi Sono nudi Ma perché? Beh dai C'è Che scelta è stata? I capelli bianchi Non so Cioè Perché l'idea è quella Gioca virtuotennis E non al tennis vero Perché nel tennis vero Vedi questa gente qua Quando vai a cambiarti Trovi queste persone Ma Quello con la racchetta in mano Il cugino del papa Cosa sta facendo? No ma cosa sta facendo Quello con la racchetta in mano? Non so dove metterla E gli stanno venendo delle idee Cos'è questo? È un posto per le bici? No Allora c'è un po' Giù la racchetta Ma vabbè Per andare invece Sulla classe Più Elevata La Francia Che ci regala Come abbiamo già visto Qualche piccolo Interessante momento E il Dreamcast Lo fa presentare Il più grande giocatore Di Dreamcast Della storia Cioè Rocco Sifredi Vabbè Vabbè quella Con Sì Ragazzi Sei anche famoso A modo suo L'oggetto C'è un surere Con una scritta in francese Che lascio tradurre A chi lo sa Noi Cioè Librarsi nell'aria È soprattutto Una questione di stile Ma Quindi lì c'è un'altra cosa Che si miglava Volare Volare come un uccello Librar Eh sì È quella il signore E tutte le damigelle Si intrattengono Benissimo La scrittina in piccolo Dice esiste anche su pc Se uno vuole Bini 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 Poi che Scusate l'analogia Che cazzo Di gioco era Che ne so Io ho visto Rocco Sono spaventato Non ho guardato La La pubblicità E Basta Direi che Siamo Giunti Alla fine Quantità Di cose Esagerate Chiudiamo Con la cosa Più Esageratissime Rimiri Murimarrima Che Uno spot De Sega Saturn Fatto dai giapponesi Ma che già contento Si inventano un personaggio Come fosse Un Supereroe Della Sega È già detto C'è una brutta frase È già un'orrendissima frase L'uomo stantuffo E che si chiama Segata San Shiro Madonna santa Me l'avevo dimenticato Ma sì Quello si era anche Eh sì sì Aveva anche un gioco Dove era la protagonista Sembra il nome Di un personaggio Della giallappa Sì Mai dire Bondi Sì E l'idea E effetti Più o meno è quella Che faceva gli allenamenti Che finiva i gioi Per da cazzotti C'era qualcosa Di epico Che poi è un quarantenne Vabbè Delle mosse È un giudocca Ma è fighissimo Bisogna vedere il video Guardando il primo commento Che è Truly the mainliest Gamer ever Con un padre enorme Dopo quella del baseball Colpisce le Fai espondere le genti È la cosa più epica del mondo Pacca i giochi con la testa Poi infatti si fa anche male Gioca a baseball Con i piedi No ma questo è bellissimo Parra e sicchio Senza i pattini Questa è la miglior pubblicità Mai vista Concordo Pattina senza E perché c'è una discoteca Giapponese Che non so Spero neanche esistessero È perché arriva lui Cosa sta per accadere? Perché no? Perché ringa le folle E li uccide tutti Stanno traminando Gli uccisbetti? È un frito È un grande Ha distrutto una discoteca Con una mano sola Perché varre in discoteca E non gioca di videojoggi Mi deve incontro Se la siga Faceva questi spot Dall'inizio Adesso avevamo il monopolio E questo cosa sta I ragazzetti Cosa fai questi ragazzi? Per ricordare che salva i giovani Ma sta dicendo delle cose La tua vita Ho capito qualcosa Con le esplosioni Cool guy Don look at the goal E cioè Zombie Zombie Ovviamente Ma lui di cappotta Col judo Immagini Quando picchiamo il controllo Ma è lui E anche Babbo Natale E anche Babbo Natale In realtà No No ma Io l'adoro questa cosa È grande Tra i fiori No è la cosa più bella Mai vista Mi giuro Ma lui sa che ha faccio il nostro giapponese Adesso Io posso morire felice Ma dovrebbe essere l'inno del Giappone Sì E poi concentrazione Un momento introspettivo Secondo me c'è scritto siga su quel coso Ma piange Perché? Perché c'è un incendio? Eh perché? Salva tutto Salva la gente Ah ma senza portarlo fuori Direttamente lì Anche parametri Si moltiplica Molte volte Molte volte Si le pubblica È la mia nuova suoneria questa E' la mia nuova suoneria questa E' la mia nuova suoneria È bellissima È mezza la nebbia È lo spolato più bello del mondo E questo è per Max Che mi dice sempre Che finisco le puntate Con le cose mestre giapponesi No ma dategli un Oscar Ma è bellissimo Il momento in cui picchi al controller Può essere la nuova G Tra i commenti Si Gata Sanshiro Riesce a finire il porting per Saturn di Dark Souls 2 Senza morire No ma quella GIF Quella GIF sarebbe la mettere tipo nei giochi brutti Se la metti Se la metti come proprio metro di valuta Cioè come voto per i giochi di merda C'è il Segata San Ciro Ecco Quello che mi era venuto in mente Lo vedo che è già apparsa nel prossimo video Chuck Norris contro Segata San Ciro Ma tra i vari commenti Lo pesco da una discussione Chuck e Segata San Ciro vincono E la realtà perde Adesso succede Non so Si inverte la forza di gravità Il fuoco diventa freddo Il ghiaccio scotta Vi prego Nelle cose Nelle recensioni Mettiamo livello di difficoltà Nuovo parametro Da cosa Da pinball A Segata San Ciro Concordissimo Segata San Ciro E Dark Souls bendati Si ma neanche che rabbia Veramente però Cioè Fatto boiate sessuali Fino adesso la siga È stupendo Inbronca una cosa sensata E la fa per l'ultima console schifosa Che non riesce a vendere Che fa crollare la compagnia Madonna Ed è la cosa più epica Mai vista Ed era la cosa più epica Che avessero fatto E adesso finiscono A fare Sonic Ai giochi olimpici Chiedendo spazio a Mario No ma ragazzi Ve lo dicevo prima Cioè se questi idioti Scusatemi Facevano questa cosa Tre anni prima Sony e Nintendo Erano fallite subito Dici ma Sony Fa anche i televisori I telefoni No falliva Adesso io qua Invece non ho il cellulare Sony ho il cellulare e siga Con lo sfondo Di default Segata Sanshiro Che anche se lo volevo cambiare Ricompariva Va va Io ragazzi Vi dico Sono talmente esaltato Dalla cosa Che proprio Adesso vado fuori Strada Urlando Segata Sanshiro Ciao Fallo subito Vado Vado Ci vediamo in galera Segata Sanshiro Lo fa Lo sta facendo Lo fa Ti piace ricordarlo così Eh sì Abbiamo salutato Il nostro Max In questa maniera Sobria Sentite delle urla Fuori Ancora lui Che sta Correndo Sentiamo anche Le sirene Ovviamente La polizia Che viene ribaltata Dalla potenza E dalla fantasticheria Di tutto ciò E quindi ragazzi Che dobbiamo dire Che quasi quasi Per questa prima Tranche Della puntata Abbiamo finito Eh 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 Ma Già vi preoccupiamo Dicendo che ce ne sarà Una seguita Quanto meno E quando meno Ve lo aspettate O no Roberto Eh sì Con l'era moderna E tutto quello Che non abbiamo ancora detto In questa Quindi se già avete sentito Le cose interessanti E utili Per la vostra mente Di tale puntata Non c'è che di meglio Guardate sempre Amici ascoltatori Che c'è sempre Spazio per il peggio Quindi Su queste Note Iniziamo a fare Un giro di saluti Della miglior specie Quindi partiamo A caso da Roberto Toya Detotux E un saluto Segaro A tutti Graziamo Incredibilmente Nintendaro va Ma Siamo 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 Xbox E non lo so Poi vediamo Passiamo Al nostro fidatissimo Mattia Camus Ciao a tutti Vado che devo andare A prendere a pugni Un controller In modo coordinatissimo Fai bene Perché fa bene Alla salute E infine Il saluto Arrivedercioso Al nostro Claudio Di Agostini Detto Klaus Hashtag Vote Segar Assolutamente Lo faremo E lo taggeremo A manetta Infine Vi saluto Io Il vostro Giuliano Luongo Detto Giuliano Luongo E ovviamente Con un massimo Tributo A Segata San Sciro Vi mandiamo Alla prossima Puntata Ciao Arrigato Segata San San Sciro Segata San Sciro Ok Ok Accro M Mi Mi Grazie a tutti.